Il grande Erling Haaland, a neanche vent'anni di età, è destinato a brillare in quelli che sono i grandi, più importanti, palcoscenici del mondo del calcio. Ma dovrà ovviamente migliorare, infatti l'ultima foto, l'ultima immagine che l'attaccante norvegese, Boulouse-Dormann, ha fatto storcere il naso, diciamo che rivela di svera qualcosa di non bello, di non positivo. Infatti ha passato, diciamo così, ha fatto il ritorno in Norvegia per passare vacanze insieme alla famiglia, ma l'ultima foto lo mostra in un bosco con una motosicla in mano, e accanto al papà l'ex centromantista Alf Inge Haaland, famoso per una rischietta carriera nel Premier League. Però, diciamo che proprio Erling avrebbe fatto di recente, avrebbe avuto di recente una lite, una furibonda lite, con i buttafori che lo avrebbero cacciato dalla discoteca. In pratica sarebbe stata questa lite di una discoteca non precisata di dove si trova, di dove si è pubblicata, e questa lite avrebbe riguardato anche qualcun altro. Quindi i buttafori sono dovuti mettere nella condizione di intervenire per cacciarlo via al di fuori, e mandarlo via al di fuori della stessa discoteca. Sono immagini forti, quelle che si possono vedere qua sul web, che ci fanno veramente capire che non è tutto quel che luccica, e che a volte anche i cosiddetti personaggi, smaccatamente meravigliosi, unici, straordinari, fantastici, lieti, paciusi, in realtà si diventano, si dimostrano dei veri e propri diavoli, dei veri e propri inferi. Grazie a tutti, vi termina qua, un saluto caro italiano, un saluto italiano.